Aspetto molto perché è una partita molto molto importante, io non lo dico quasi mai ma questa volta è veramente importante, quindi speriamo bene. Ma no, serve poco, serve io credo anche un po' di buona sorte perché il Milan sta crescendo, l'abbiamo visto a Parma, l'abbiamo visto prima anche col Cagliari ma direi soprattutto a Parma, soprattutto a Mosca e poi un derby che ripeto secondo me abbiamo perso immeritatamente e Abbiatti ha dei problemi così, ha le vie respiratorie quindi difficilmente ci sarà ma ci saranno sostituti adeguati. Non mi piace fare pronostici per il futuro, mi sembra una squadra in netta crescita, adesso arrivano le partite fondamentali sia in campionato sia in Champions perché è importantissimo a sabato con la Lazio ma non è altrettanto Malaga e poi avanti e quindi speriamo di ritornare alle nostre velocità abitudinarie.